un saluto a tutti a tutte da andrea cartotto cari ragazzi e ragazze questo video corse per voi con un'attività tecnologica ma che potete e anzi dovete svolgere come state osservando all'aperto in un luogo sì all'aperto ed in sicurezza come quello in cui mi trovo io ora o anche sul terrazzo di casa a patto di non avere un grande inquinamento acustico una app da scaricare gratuitamente in questo caso sistema operativo android bird net applicazione che è frutto di ricerche e di studi tali per cui noi possiamo con questa app e vi posso dire che l'ho provata in diverse occasioni con grande sorpresa capire dal suono quindi proprio dal cinguettio degli uccelli che riusciamo a percepire in un qualsiasi luogo che uccello stia emettendo quel suono o quel cinguettio e quindi uniamo tecnologia e scienze l'app vi ripeto è bird net guardate ora come funziona allora io avvio l'app vedete in questo caso il microfono è acceso in automatico vado poi sui due trattini quindi sul segno pausa quando ho raggiunto un certo grado di ascolto e con le dita vado a delimitare quell'area che avete visto affinché insomma il sistema possa lavorare su quella traccia audio perché io posso anche scegliere naturalmente su quale porzione lavorare poi lo abbiamo visto qualche secondo prima c'è il pulsante analizza ed ecco qui che abbiamo picchio rosso maggiore e io vi garantisco che sì c'era proprio quel suono un po da cartone animato che pareva anche a me da profano il suono di un emesso da un picchio non sapendo ovviamente che fosse un picchio rosso maggiore toccando la freccina accanto a picchio rosso possiamo anche avere informazioni su questo uccello tratte da wikipedia o da altra fonte insomma divertitevi divertiamoci in sicurezza dove vogliamo e con un alto grado di attendibilità con questa splendida app didattica bird net ancora un saluto a tutti a tutte voi da andrea cartotto ciao